Potrebbe essere stata una setticemia fulminante a causare l'improvvisa morte della 24enne istruttrice di nuoto Carmen Giorgino, originaria di Manduria. La ragazza aveva febbre alta da alcuni giorni e lamentava forti dolori alla schiena. Visitata in tre ospedali e sottoposta ad esami e visite specialistiche e morta al reparto di ematologia del Moscati. I valori riscontrati nelle analisi del sangue apparivano compromessi. Oggi l'autopsia e per verificare la regolarità delle procedure sanitarie effettuate dal proprio personale, l'ASL ha istituito una commissione interna composta da tre medici. Marcello Chironi, responsabile della struttura a rischio clinico dell'ASL di Taranto, Gianfranco Malagnino, direttore medico del presidio ospedaliero Valle Ditria e Antonio Rubino, direttore della struttura complessa di anestesia del presidio ospedaliero Valle Ditria. Intanto i carabinieri del NAS hanno acquisito tutta la documentazione sanitaria nei tre ospedali dove la 24enne è stata sottoposta a visite prima del decesso.